Esiste un altro posto molto speciale, un antichissimo monastero, sulle cime dell'Himalaya. Lo chiamano Tiger's Nest. Lo conosco quel posto. Noi siamo qui per te, come una famiglia. Voi non siete la mia famiglia e i miei genitori sono morti. Caricatela sul furgone. Andiamo, vieni con me. Il cucciolo! Prendetelo! Hai avuto paura per me? Anch'io ho avuto paura. Ce l'abbiamo fatta. Brava tigrotta. Ti sei presa cura di me. Ti chiamerò Mukti. Chiedono dov'è la madre. L'hanno uccisa. Mukti è sola, come me. Dove la stai portando? A nord, sulle montagne, al Tiger's Nest. Segui le gru' dal collo nero. Il bracconiere farà di tutto per riprendersi il cucciolo. Avrà bisogno di una madre per riuscire a sopravvivere qua su. Ora è questa la tua casa. Vai! Vai! Non camminare anche per riprendersi. Avvaiotata. Vieni. 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 Grazie.